Mi legga il telefonino la sua agenda di oggi, perché l'ultima volta che venne da me, io mi sono fatto due conti, vengo citata in mille pezzi, perché si disse cosa fa Renzi il 23 di dicembre? Il dicembre Renzi la mattina va dalla Merlino, subito dopo va a Re Bibbia a incontrare Verdini e poi si ferma sull'autogrill a fare la chiacchierata con Mancini, che è l'agente segreto più chiacchierato d'Italia. Mancini l'agente segreto, non Mancini il commissario tecnico nazionale, perché continua a dire Mancini è Conte, l'agente segreto... Eccoli là, siete voi. Allora, oggi Milia che fa, perché io mi preparo? Allora, intanto sono già venuto un'altra volta, mi dispiace che quando la incontro lei se ne dimentichi così frequentemente e non me l'aveva chiesto. Non è vero, anzi, io amo fare le interviste con lei, lo sa. Sono già venuto qualche mese fa, battuta a parte. Torno a quella vicenda e poi le parlo della vicenda dei servizi segreti. Molti mi hanno accusato perché da parlamentare sono andato nei giorni di Natale in carcere. Io la trovo un atto di civiltà, sono andato anche a salutare un amico, sì, perché per me gli amici rimangono tali, anche quando sbagliano, anche quando sono condannati. E quelli che chiudono gli occhi, i rapporti, i muri, quando non interessano più, non sono degli amici. Sono delle persone che hanno un interesse. Io credo che l'amicizia si veda anche e soprattutto nei momenti di difficoltà. Chiuso a parlare di ci tengo. Tra l'altro, di più, che ogni volta che lei incontra Verdini si dice ecco dove si capiscono i due Mattei, grazie al suo seno di Salvini. Guardi, ho fatto l'ultima querela che ho fatto, è perché un giornale ha scritto, non dirò il... Vabbè, lo posso dire anche il Fatto Quotidiano, è stato sempre loro. Ha scritto che io ho fatto una cena con Salvini a casa di Verdini nel 2019. Non ho mai incontrato Matteo Salvini a casa di Verdini, Marco Mancini è un signore, che le dico. Sono cose importanti, perché quando Salvini era potente nessuno andava in televisione contro di lui. Io non sono criticata perché andava a trovare Verdini, quindi per quanto mi riguarda lei può fare... Benissimo, ma rispetto anche a Salvini, così chiudiamo anche questa cosa. Quando Zingaretti voleva fare l'accordo con Salvini per andare a votare, l'unico che ci ha messo la faccia per bloccare le elezioni che voleva dire Salvini a Palazzo Chigi è stato sottoscritto. Quando c'era da andare in tv, che nessuno trovava il coraggio di andare in tv, ci andavo io da Vespa contro. Sono tutti bravi, sono il coraggio del giorno dopo. Che succede? Che questo signore, Marco Mancini, dirigente del DIS, insomma, dirigente importante dei servizi segreti, super chiacchierato perché è stato al centro dei due scandali dei servizi Casa Buomar e lo scandalo Telecom Sismi, si contra in un autogrill il metri di dicembre con Matteo Renzi. Dopo quella cosa, Marco Mancini viene gentilmente accompagnato a un prepensionamento, articolo di tutti i giornali, dicono è stato praticamente allontanato perché il curatore Renzi è stato troppo imprudente. Questo signore, per dirlo a chi ci ascolta a casa, che non lo conosce, viene definito da Carlo Bonini, che è uno che ne sa, la spia pretta portè che sussurrava all'orecchio dei politici. Dice che sono praticamente 25 anni che tutte le questioni di rapporti con la politica lì gestisce lui. 40 minuti a un autogrill. Ma di che avete parlato? Me lo dica chiaramente, così chiudiamo la piscina. Per tutti quelli che sono interessati a capire di che cosa si è discusso, c'è sul mio canale YouTube un'intervista di un'ora fatta a quelli di Report che hanno trovato il famoso Scoop, poi scopriremo che Scoop non è... Ma i babbi di cioccolato, tutto quello è goloso. Lei però un'ora non se l'è vista quell'intervista. Se se la vede vede che c'è tutta la risposta nel dettaglio. La vista torrissima ha detto. E mi dispiace per lui. Dopodiché mi faccia dire una cosa su questo perché stiamo veramente alle barzellette. Quel signore lì è un dirigente dello Stato che lavora per un'amministrazione statale e che incontra nello stesso periodo il sottoscritto Luigi Di Maio, Matteo Salvini, Giuseppe Conte. Ma non è un autogrill però. Ma che è un maumma? Aumma, aumma. Berlino, ma aumma, aumma si fa negli appartamenti a Roma? Non si fa nell'autogrill in modo libero? Sicuramente io ero venuto da lei. Era andato da Verdini e stavo tornando a casa di corsa perché era in ritardo e avevamo, come dire, il primo momento in cui ci vedevamo in famiglia. E ho chiesto, guardi, io non riesco a rientrare. Se vuol venire viene lei a parlare con me all'autogrill. Attenzione però. Perché qui c'è dietro qualcosa sotto. Uno, non è chiaro la dinamica di questa vicenda. Due, io non ho nulla da nascondere. A me se l'amici di vedere io la vedo in autogrill, a campo da tennis, l'ultima cosa, l'ultimo al volo, poi vediamo. Terzo punto. Questa storia la mettono in campo quelli che dicono che c'è stato un complotto. Ma di che? Io ero venuto da lei, dalla Merlino, a dire voglio mandare a casa Conte se non cambia. La stessa cosa l'ho detto a un agente di servizioni, l'ho detto ai cittadini che guardano la mia fettina. La prova che non c'è nel complotto sono io, la voglio dire a tutti. Pubblicità e torniamo subito con Matteo Renzi. Il complotto l'abbia fatto la Merlino di nascosto.